avete mai fatto 13? al totocalcio dico no nemmeno io e neanche loro altrimenti non sarei qui a parlare con voi però c'è qualcuno che il 13 l'ha fatto gli operatori telefonici nazionali che non applicano più le tariffe mensilmente ma ogni quattro settimane quattro settimane sono 28 giorni 365 diviso 28 fa 13 in pratica è come se si regalassero la tredicesima a vostre spese la mia compagnia no con interplanet continuo a pagare veramente una volta al mese veloce affidabile e non cresce nel prezzo fatevi quattro conti e passate ad interplanet conviene